Quindi The Elite si è fatto la panchina in 90 minuti. Tutto l'altro non hanno vinto con Chelsea, pareggiato in San Borbricio, diciamo che... Vabbò, ma The Elite 90 minuti in panchina, era da partito 85 minuti. Però The Elite ci doveva portare il salto di qualità al Bayern Monaco, che l'hanno pagato pure poco. Secondo me, tra qualche mese, dovremmo chiamare la Germania e dire al Bayern, sai, forse vi abbiamo fottuto 70 milioni, ma ve li spediamo 40 milioni indietro, perché, sai, sto alla guerra, ci dispiace la spesa folle che avete fatto. Perché qua, quando abbiamo venduto The Elite, sembrava che l'Oio vi sarei indebolito, vabbè, 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 vergogna. Due partite in panchina. Il problema è un altro. Chi toglie Nuggesmann per fare posto a The Elite? Dove sta scritto che deve togliere a qualcuno che la squadra gioca così, vince e gioca bene? Ma siamo sicuri che The Elite deve diventare il punto farmotubo a Bayern Monaco? E se sì, voglio sapere da voi, chi deve togliere per fare posto a The Elite? Lo scopriremo solo, vivendo. Ciao.